Buongiorno a tutti amici da questo splendido paesaggio calabrese di Amantea vi do appuntamento più tardi nel pomeriggio, non vi so dire esattamente l'ora per problemi di linea, di wifi, ma un postantissimo video sul caso Denise sugli sviluppi, sulla dottoressa Angioni, sulla guerra con la procura l'ho titolato, credo titolerò la guiete prima della tempesta è un ragionamento molto importante, ci sono non fatti nuovi ma dei presupposti nuovi cioè dei presupposti nuovi nel senso che se la dottoressa Angioni dovrà essere chiamata a rispondere di cose inesatte, le metterà sul tavolo tutte le cose inesatte dette da tanti altri, tutti i principali personaggi coinvolti quindi rifletteremo insieme, mi raccomando nel pomeriggio vedete, date vedere nel pomeriggio appena possibile sul canale per favore condividete, condividete con tutti, ritengo che sia un video molto 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 importante grazie, vi voglio bene, un abbraccio a tutti, a dopo